Ora vi darò una dimostrazione di come Penelope Pitstop sia abile con le pistole Oh no 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 no, assolutamente niente spari, duelli o cose del genere E tu chi sei? Ciao cara, io curo la qualità dei programmi, mi assicuro che non ci sia violenza, azioni pericolose e non accadano cose inappropriate negli episodi Va bene, allora potrei usare arco e frecce? No, proibiti frecce, rocce, cerbottane o proiettili di qualsiasi tipo Ma stiamo facendo un western, hai presente? Azione, avventura, duelli, assalti alle diligenze Non scuotere la testa, non sei mica un carro da festa in questa terra del pesolino Ora tu dovrai pagare, la pena tu dovrai scontare Gattachid, Gattachid, ormai non potrai più fuggir Perfetto, erba Gattachid dietro le sbarre finalmente Lo sceriffo di Castle Flat ha messo fine alla carriera di quell'estofante Il ragazzo ha sempre detto che nessuna prigione può fermarlo Ma erano solo un cumulo di stupidaggini Con Castle Flat ha chiuso Ora vediamo che tipo di guai può inventarsi nella prossima città Dieci passi sempre dritto e la X segna il punto Da morire da ridere, com'è fatta questa X? A me sembra più, no? Stupida di una mappa Ah beh, tanto sarò ricco Ricco! Su una montagna di soldi Sarò ricco sfondato Ricco da far paura! E cos'è che mi blocca la strada? Ehi, cosa ti sei messo in testa? Non lo vedi che sono impegnato? Hai rubato il mio tesoro! È mio se non lo sai! Tesoro? Hai capito male, amico Io non so un bel niente di nessun tesoro Il tesoro si trova qua sotto È scritto chiaro sulla mappa Fammi vedere quella mappa Ah, ecco dov'è il problema Questa cosa è scritta in Esperanto Esperanto? Una volta sono uscito con una di Esperanto Non capivo niente di quello che diceva E per di più stavi tenendo la mappa alla rovescia Alla rovescia? Sì, ora per prima cosa devi fare dieci passi da quella parte D'accordo! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci Ora a destra altri due passi Uno, due Adesso tre passi a sinistra Quattro sempre dritto Ora a destra Fai un orso a destra! Hai detto a destra e poi mi faccio un sorso? Non un sorso! C'è un orso alla tua destra! Ah! 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 Scusa tesoro Ma credo che vincerò io Non dire quattro se non ce l'hai nel sacco, Penny Perché non avete le cinture di sicurezza? Perché è un cavallo Vedi, il fatto è che le cinture di sicurezza Non sono adatte al cavallo di un cowboy del vecchio West Cinture di sicurezza subito! D'accordo, d'accordo! Non sono abbastanza più cinture! Odio questo episodio! E vedete di rallentare con i cavalli! Insomma, questo è un episodio western Quindi dovrebbe essere... Oh! Ah! Mi è piaciuto! Quello era divertente! Oh! 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 Oh!